In primo piano in questa edizione del nostro telegiornale all'emergenza coronavirus tra i nuovi casi a Matera Lauria e Melfi, positivo anche un dipendente dell'ospedale federiciano che però non lavora da giorni, guarito un uomo di calvello. La cronaca giudiziaria con la violenza sessore di gruppo a Pisticci rinviato a sabato prossimo l'incidente probatorio che si sarebbe dovuto tenere oggi sullo stupro alle due turiste minorenne inglesi durante una festa a Marconia. Quattro li ha arrestati e ai tre indagati a piede libero si aggiunge un altro ventenne riconosciuto dalle sedicenni su un social network. Si è chiuso senza condanni a soluzione il processo sulla calciopoli lucana una volta caduta l'associazione mafiosa in prescrizione di tutte le altre accuse nei confronti dell'ex patrono del potenza Postiglione. E ancora enti sub regionali, la giunta nomina il direttore dell'ARPAB, si tratta dell'avvocato Antonio Tisci in quota Fratelli d'Italia ma nella maggioranza a cui è agitate tra Lega e il partito della regione. Nello sport calcio a 5 si chiude con una sentenza del Tribunale federale l'Odissea del portiere Francesco Bartilotti che si era ritrovato prigioniero di una squadra abruzzese per una filma falsificata. Buon poveriggio dagli studi della nuova TG e ben ritrovati a questo appuntamento con l'informazione regionale. Dunque l'abbiamo sentito dai titoli in apertura di questa edizione del nostro TG c'è l'emergenza coronavirus perché sono tre i nuovi casi a fronte di 634 tamponi che sono stati processati nelle ultime 24 ore. I positivi a Matera, Lauria e a Melfi. Contagiato anche un dipendente dell'ospedale federiciano che però non lavora nel nosocomio da alcuni giorni. Guarito invece un uomo a Calvello. Facciamo il punto con Michelangelo Russo. Due casi di rientro dalla campagna nelle ultime ore fanno salire a tre il numero dei positivi del bollettino di oggi a fronte di 634 test processati. La prima è una donna di Matera che lavora in Puglia diagnosticata già ieri pomeriggio. Mentre gli altri due comuni interessati sono Lauria e Melfi. Nel centro dell'area sud è risultato positivo un operaio che lavora in un cantiere in campagna e che avrebbe anche dei sintomi lievi. Pare che abbia contratto il virus entrando in contatto con un collega che risulterebbe appunto positivo. Nel comune federiciano invece il caso riguarda un uomo residente in Emilia Romagna che lavora presso l'ospedale. Tuttavia da giorni è a casa per cui non dovrebbero esserci rischi di un eventuale focolaio nella struttura ospedaliera. La persona si sarebbe contagiata in campagna. Non conteggiato ancora invece un turista austriaco che sarebbe domiciliato in una casa vacanza a Matera. Mentre a San Carlo a ore sarà processato un tampone giunto da un laboratorio privato con esito positivo su un paziente del Potentino. Guarito invece un uomo di Calvello. I casi attuali tra i residenti lucani diventano 90 più altri 50 tra residenti fuori regione, migranti e stranieri in isolamento sul territorio lucano. Sette ricoverati di cui soltanto uno in terapia intensiva, il 26enne di Ginosa. C'è un ottavo indagato nell'ambito delle indagini sulla violenza di gruppo subita da due turiste minorenne inglesi di 16 e 15 anni durante una festa in una villa di Marconia di Pisticci la notte tra il 7 e l'8 settembre scorsi. Lo si è appreso questa mattina dopo la decisione del GIP di Materangelo Onorati di rinviare l'incidente probatorio a sabato 26 settembre. L'ottavo giovane era stato denunciato da una delle due ragazzine inglesi che lo avrebbe riconosciuto da una foto postata su un social network. Tra una settimana le due minorenne saranno chiamate a riconoscere in maniera formale i giovani coinvolti nella violenza sessuale di gruppo. Il rinvio dell'incidente probatorio è stato concesso anche per permettere agli avvocati difensori di analizzare tutta una serie di documentazione relativa all'indagine coordinata dalla Procura della Repubblica di Materangelo. Al momento in carcere si trovano Michele Masello, Alberto Lopatrello, Alessandro Zuccaro e Giuseppe Gargano, tutti di Pisticci. E dietro a compresa tra i 19 e i 23 anni, altrettanti a questo punto i giovani indagati a piede libero, tra loro anche il figlio di una poliziotta. E si è chiuso senza condanne e assoluzioni il processo sulla Calciopoli Lucana. Una volta caduta l'associazione mafiosa, tutte le altre accuse sono andate in prescrizione. Come ci spiega Fabrizio Di Vito? A quasi 11 anni di distanza, gli arresti e le perquisizioni erano scattate alla fine del novembre 2009, l'inchiesta sulla cosiddetta Calciopoli Potentina si chiude con la prescrizione di tutti i reati contestati. Nessuna condanna quindi al termine di una vicenda giudiziaria caratterizzata da tante battute d'arresto e altrettanti faticosi tentativi di ripartenza. I giudici non hanno potuto far altro che certificare l'intervenuta estinzione dei reati contestati. Il destino del processo è stato sin dalle prime battute strettamente legato a quello a carico dei Basilischi, sodalizio criminale non riconosciuto dalla Cassazione come un'associazione a delinquere di stampo mafioso, verdetto quello degli ermellini che ha di fatto messo la parola fine su decine di processi collaterali come Calciopoli. La prescrizione riguarda tra gli altri l'ex patron del Potenza Calcio Giuseppe Postiglione e l'ex consigliere regionale Luigi Scaglione, accuse prescritte anche nei confronti di Pasquale Giuzio, Luca Evangelisti, Aldo Fanizzi, Ettore Todaro, Antonio Di Pasquale e Donato La Polla. Tra i reati contestati a vario titolo c'erano truffa, usura, violenza e danneggiamento. L'inchiesta, lo ricordiamo, aveva svelato un presunto giro di scommesse illecite su alcune gare di Serie B e prima divisione di calcio. In quest'ultimo campionato, all'epoca dei fatti, militava anche il Potenza. L'inchiesta, inoltre, riguardava anche gli incidenti avvenuti prima e dopo la partita Potenza-Gallipoli del 2008. La Procura ipotizzava poi rapporti tra politici, imprenditori e criminalità organizzata, finalizzata ad uno scambio di favori, ovvero l'assegnazione di determinati lavori e progetti in cambio del sostegno elettorale. Ma tutto è finito nel dimenticatoio della prescrizione. L'Italia al voto è scattato dalla mezzanotte, il silenzio elettorale. Domani e lunedì urne aperte per il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari. Mentre in Basilicata sono 22 i comuni, 13 nel Potentino e 9 nel Materano, tra cui la città di Matera, chiamati a rinnovare le amministrazioni comunali. Nella città dei Sassi sono sei candidati sindaco, 19 le liste, unico centro tra quelli lucani chiamati a rinnovare i consigli comunali, in cui è previsto il ballottaggio. Dalle 16 di oggi le operazioni di insediamento nel rispetto delle misure anti-Covid, seggi aperti domani dalle 7 fino alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Si vota su due giorni, come avveniva fino a qualche anno fa, proprio per evitare assembramenti ai seggi. Già domani, già lunedì lo spoglio del referendum, martedì dalle 9 quello delle comunali. Rigide le misure di ingresso ai seggi comunque contingentati. Ci si presenta muniti di tessere elettorale, di un documento di identità valido, ma muniti anche di mascherine igienizzanti per le mani. Gli elettori potranno togliersi la mascherina solo nel momento del riconoscimento, rimanendo però distanziati dai componenti del seggio. Enti sub-regionali, la giunta nomina il direttore dell'ARPAV, si tratta dell'avvocato Antonio Tisci, in quota Fratelli d'Italia, ma nella maggioranza acque agitate tra la Lega e il partito Regione. Mara Risola. Il centrodestra in Regione piazza un'altra pedina sullo scacchiere delle nomine. La direzione regionale dell'ARPAV, l'Agenzia per l'Ambiente di Basilicata, senza dubbio una tra le più importanti attese da questa classe dirigente alla guida della Regione. Una nomina frutto di un accordo tra i partiti di maggioranza, Lega, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Idea Cambiamo, che da un anno a questa parte hanno condiviso gioie e dolori della prassi amministrativa, non solo ai piani alti di Viale Verrastro, ma anche negli enti sub-regionali. Il centrodestra in quota Fratelli d'Italia ha da poco nominato come direttore generale dell'ARPAV l'avvocato Antonio Tisci. Il decreto è stato firmato dal presidente Bardi nei giorni scorsi, ora si è in attesa che l'atto venga pubblicato sul bollettino ufficiale della Regione. Dopo la nomina dell'assessorato all'Ambiente e dell'esponente politico di Fratelli d'Italia Gianni Rosa, chiamato da Bardi e non eletto, qualcuno nel centrodestra si aspettava una nomina tecnica per l'ARPAV, magari un chimico. Inoltre c'è da evidenziare non solo la spaccatura interna a Fratelli d'Italia, ma anche la debolezza politica in cui si trova in questo momento l'assessore Rosa, legata alla vicenda elettorale di Avigliano, con il mancato accordo tra Lega e il partito della Meloni, che ha portato alla spaccatura. Tanto che più di qualcuno avrebbe chiesto una verifica in giunta da realizzare dopo le elezioni. Per questo l'accelerata per l'ARPAV, almeno per evitare la corsa alla nomina da parte degli altri partiti di maggioranza. Al sito estrattivo di Tempa Rossa è ripresa l'attività d'esercizio dopo la breve fermata degli impianti della totale accordeto per Ticara per l'esecuzione di alcuni lavori pianificati. La società petrolifera fa sapere di aver concluso con successo le riparazioni e gli interventi di manutenzione che erano stati programmati da ieri mattina in corso la risalita dei livelli produttivi attraverso l'apertura in sequenza dei pozzi della concessione. Durante la sequenza di riavviamento delle varie sezioni di impianto si potranno verificare alcune discontinuità delle portate dei fluidi di produzione e ciò potrà portare durante il fine settimana a limitati fenomeni di maggiore visibilità della fiamma in torcia. salvaguardando continua la società petrolifera comunque il mantenimento dei parametri di qualità dell'aria entro la norma è prevista in queste ore anche la ripresa dell'emissione del gas naturale prodotto nella rete SNAM e a partire da lunedì potranno riprendere il caricamento delle autobotti con GPL dal deposito di guardia per Ticara. La linea alla regia per una breve pausa dopo. Fai ripartire la tua azienda con La Nuova, Quotidiani, TV e Web richiedi il tuo bonus pubblicità 2020 agevolazioni sugli investimenti pubblicitari e rimborso al 50%. Per informazioni contattaci al numero 0971 47 65 52 o tramite mail all'indirizzo info-lanuova.net La riapertura delle scuole in Basilicata dopo Castel Saraceno slitta anche a Pisticci la data di rientro a scuola. Il sindaco Viviana Veri fa sapere che per garantire la corretta esecuzione delle operazioni di sanificazione dei seggi elettorali dopo il referendum del 20 e 21 settembre e consentire al personale scolastico di poter eseguire in sicurezza le operazioni di riallestimento degli spazi didattici secondo le norme anti-Covid. L'area apertura delle scuole dell'infanzia primaria e secondaria di primo grado del territorio comunale è stata posticipata a lunedì 28 settembre. Intanto proseguono i sopralluoghi del Comune per monitorare la situazione in tutti i plessi come spiega al nostro microfono la sindaca di Pisticci Viviana Verri. Abbiamo condotto dei sopralluoghi col personale tecnico e col personale scolastico sui plessi dove stiamo facendo qualche intervento manutentivo in alcuni casi abbiamo dovuto individuare altri luoghi dove allocare alcune classi più numerose. Si sta lavorando incessantemente perché le scuole possano aprire naturalmente è fondamentale e preziosa la collaborazione delle istituzioni scolastiche perché nei genitori, nei bambini naturalmente c'è comprensibile preoccupazione però noi da parte nostra stiamo facendo e faremo tutto quello che è possibile affinché il loro diritto all'istruzione sia garantito dopo tanti mesi in cui i genitori, famiglie, insegnanti hanno fatto enormi sacrifici per portare a termine l'anno scolastico. Se per quanto attiene l'edilizia scolastica diciamo che sono stati fatti grandi sforzi c'è resta da sciogliere il nodo trasporti abbiamo visto che qui ci sono anche molte frazioni grosse, popolose però distanti anche dalle strutture scolastiche. Sì, sicuramente quello dei trasporti è stato sempre un tema molto delicato in un territorio di 230 km quadrati quindi garantire a tutti l'accessibilità è stato sempre complicato. Le ultime norme ci sono venute un po' incontro con la possibilità di riempire l'80% di scuola naturalmente stiamo predisponendo tutte le misure idonee faremo fare anche dei test sirologici al personale che accede sugli scuola e anche grazie ai fondi che sono arrivati anche dal Ministero stiamo pensando di utilizzare anche scuola bus aggiuntivi a quelli che abbiamo quindi anche da questo punto di vista stiamo lavorando perché la scuola inizi in maniera più serena possibile. Non ce li avete i mezzi? Sì, noi abbiamo quattro scuola bus tra l'altro sono in arrivo anche dei nuovi scuola bus perché come tanti comuni quelli che abbiamo sono un po' obsoleti quelli che non ci sono li noleggeremo insomma stiamo mettendo in campo tutte le forze affinché si possa andare avanti in maniera serena quest'anno. Computer per la didattica a distanza dalla regione contributi fino a 400 euro a famiglia per l'acquisto dei dispositivi informatici per partecipare al bando appena pubblicato c'è tempo fino al 13 novembre. Sentiamo Lucia Petrafesa Contributi in arrivo dalla regione Basilicata per l'acquisto di beni e dispositivi informatici. L'avviso pubblico che ha una dotazione finanziaria di quasi 4 milioni di euro è finalizzato a consentire alle famiglie lucane con disagio economico e con figli in età scolare di dotarsi di dispositivi di ausilio alla didattica tradizionale e ormai indispensabili per lo svolgimento della didattica a distanza. Grazie alla misura straordinaria approvata dal governo regionale le famiglie lucane potranno contare su un bonus fino a 400 euro a fondo perduto che consentirà loro di acquistare computer portatili e i beneficiari potranno richiedere un'anticipazione del 50% dell'importo spettante. Per partecipare all'avviso pubblico è necessario che il richiedente, uno dei genitori o il tutore legale del minore sia residente in Basilicata, sia in possesso di un'attestazione di 6-2020 inferiore o uguale a 10.000 euro e abbia nel proprio nucleo familiare almeno un minore a carico di età compresa tra i 6 e i 16 anni iscritto a una scuola della regione Basilicata. L'istanza potrà essere consegnata a mano in regione o inviata con raccomandata o trasmessa tramite PEC. Per inoltrare domanda c'è tempo fino alle 13 del 13 novembre prossimo. La pagina sportiva calcio serie Cil Potenza ha chiuso diverse operazioni di mercato nella giornata di ieri. I rosso-blu si sono assicurati le prestazioni di Lorenzo Di Livio, esterno d'attacco classe 1997, figlio d'arte Papà Angelo, è stato calciatore della Juve e nella nazionale negli anni 90. Di Livio arriva dal Catanzaro dove nella passata stagione ha giocato 17 volte siglando alcuni gol. Per lui 64 apparizioni in C con la maglia di Matera, Regine e Siena oltre ad una presenza in Serie A con la Roma e 7 in B con la Ternana. In difesa arriva il centrale romeno Dejan Boldor, classe 1995, l'anno scorso in Serie A con il Verona. Per lui anche 21 presenze in B con Foggia, Pescara e Lanciano. Nel calcio a 5 invece si chiude con una sentenza del Tribunale federale l'Odissea del portiere Francesco Bartilotti che si era ritrovato prigioniero di una squadra abruzzese per una firma falsificata. Ci spiega tutto Luigi Santopietro. Finalmente libero e non è una questione di poco conto perché quella che ha passato Francesco Bartilotti portiere di calcio a 5 di buon livello con esperienze in A, A2 e B è stata una vera e propria odissea finita nel migliore dei modi. ossia con una sentenza del Tribunale nazionale federale del 28 agosto che lo ha reso libero dichiarando nullo il suo tesseramento con la società Real Dem che aveva falsificato la firma del calciatore Lucano impedendogli tra l'altro di chiudere un accordo già preso con l'Orsavigiano, club che quest'anno disputerà il campionato di A2. Il fatto è piuttosto odioso perché la società di Montesilvano culla del futsal italiano questo scherzetto lo aveva già fatto a Bartilotti che nel 2019 aveva dovuto far ricorso al TFN per liberarsi dagli abruzzesi cosa avvenuta con la sentenza del 2 settembre sulla base di una perizia calligrafica che confermava la falsità della firma. A seguito del deferimento il 9 marzo 2020 fu combinata un'ammenda di 1500 euro al Real Dem e un'inibizione di 6 mesi a carico dei dirigenti Alfredo Fiore e Denea D'Alonso ma evidentemente i provvedimenti non sono bastati a far da deterrente perché la storia si è ripetuta all'inizio di questa stagione con Bartilotti che si è ritrovato prigioniero del Real Dem per la seconda volta nuovo ricorso, nuova sentenza a suo favore ma la beffa di aver visto saltare l'accordo con l'Orsavigiano e ora Francesco Bartilotti è un giocatore libero in tutte le accezioni positive e negative finalmente svincolato ma anche senza squadra e con la speranza di poter dimostrare a 23 anni tutto il suo valore e tutto si chiude qui questa edizione del nostro telegiornale la prossima lei 19 grazie per averci seguito arrivederci grazie a tutti